Ciao amici di Italia Top Games e di PES Italia, oggi giovedì 9 giugno come al solito scopriamo le novità di PES 2016. Le novità riguardano tanti aspetti del gioco, intanto è stata rilasciata una nuova patch che risolve alcuni dei bug ancora esistenti in PES 2016. Nuovo DLC con gli aggiornamenti delle divise delle squadre che affronteranno gli europei, di alcune delle squadre che affronteranno gli europei, e c'è anche una bella sorpresa, ovvero 10.000 GP in regalo per alcuni inconvenienti capitati nelle ultime settimane in PES 2016. Un GP presi molto volentieri in omaggio. Questa settimana, in questo periodo c'è il 75% di sconto sull'acquisto di slot aggiuntivi delle rose, quindi io passo subito da 70-75 giocatori per la mia rosa, perché il 75% di sconto è veramente interessante. E poi ovviamente c'è un nuovo agente speciale che si riferisce appunto agli europei del 2016. Allora, vediamo che ci sono tre agenti, è rimasto quello della Coppa America che abbiamo visto qualche settimana fa. C'è la possibilità di girare una volta, una volta soltanto, un agente 80 più degli europei, e vediamo un po' l'elenco dei bersagli, ci abbiamo 187 giocatori, non sono poi pochissimi, e ovviamente ci sono tutti i giocatori delle nazionali che parteciperanno agli europei, che hanno una valutazione pari o superiori ad 80. Si parte con Ibrahimovic, Ronaldo, Ramos, Neuer, Bale, Silva e Lewandowski, fino a scendere ai giocatori che hanno una valutazione di 80. Vediamo un po' chi sono gli ultimi, ecco qui, scendiamo, 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 troviamo Cruze, Zaza, Kramer, Vitolo, Schar, Florenzi e tanti tanti altri, Bertolacci e molti altri. Invece, qui, l'agente che potremmo girare tutte le volte che vorremmo, ha un parco giocatori molto più ampio, addirittura 321, e ovviamente ci saranno i giocatori che arrivano a una valutazione pari o superiore a 75, quindi è ovvio che siano molti di più. Scendiamo, ecco appunto, troviamo giocatori sotto l'80, 79, 78, vediamo un po' chi sono gli ultimi da 75, eccoli qui. Abbiamo vari giocatori di varie nazionali che parteciperanno agli europei. Tanto per fare un confronto, ecco, interessante vedere che l'agente speciale della Coppa America ha una percentuale di palla nera leggermente più elevata. Qui abbiamo 31, anche se ho girato a volte la ruota e quindi può essere che si sono un po' modificati, qui siamo al 28,8. Però adesso, siccome 10.000 GP ce l'abbiamo, ci facciamo un bel giro con l'agente che ci dà un giocatore da 80 o più. Vediamo un po' chi viene fuori. Oramai abbiamo una rosa abbastanza competitiva, ma un bel giocatore sopra i 90 non ci dispiacerebbe. Ecco, questa animazione ci fa ben sperare. Di chi si tratta? Si tratta di Podorski, va bene, l'ex Inter in cui non ha brillato sicuramente, comunque un'ESA dovrebbe ben configurarsi all'interno del mio 4-2-3-1. Bene, dopo l'agente speciale andiamo a scoprire che ci dovrebbero essere anche nuovi allenatori. Andiamo a scoprire subito. Vediamo. Se ho ragione, assumiamo un allenatore. Ecco, abbiamo l'Eau de Champs, del Bosque, beh, almeno qualche Terim, abbastanza Oxon, Sousa, Conte, no, Conte non ce l'abbiamo. Però, qualche novità effettivamente presente anche fra gli allenatori. E poi, poi andiamo a vedere le competizioni. Allora, Coppa Challenge Online, cosa abbiamo questa settimana? Sfida punti, andiamo un po' a scoprirla. Allora, accumula 4 punti in 3 partite, quindi ne basta vincere una e pareggiarne un'altra. Sarai ricompensato con un giro di agente UEFA Euro 2016 e poi successivamente con 1000 GP dalla seconda vittoria in poi. E poi ci sarà sicuramente anche il torneo versus com. Andiamo a vedere. Quello che è arrivato oggi, il DLC, dovrebbe essere comunque l'ultimo DLC di PES 2016. E chissà anche se gli agenti speciali sono finiti qui, perché oramai, dopo quasi un anno, da questo punto di vista non ci possiamo lamentare troppo di Konami. Quindi, eccolo qui, UEFA Euro 2016. Vediamo subito. Oggi sembra anche più lento del solito. Ecco, riceverai un giro di agente. Dovremmo vincere 4 partite. E quindi, ecco, questo probabilmente, ma non è detto, potrebbe essere l'ultimo importante aggiornamento. Sicuramente è l'ultimo DLC, questo non abbiamo quasi alcun dubbio. Però noi speriamo che anche quest'estate, fino a quando non esca PES 2017, ci siano nuovi agenti e nuove possibilità per chi continuerà a giocare a MyClub fino all'ultimo, fin quando ovviamente non uscirà PES 2017. Bene, con questo è tutto. Vi raccomando di rimanere sul canale YouTube di Italia Top Games, sul nostro sito italiatopgames.it, sul nostro forum pesitalia.it, perché arriveranno tante novità a brevissimo. Perché la settimana prossima ci sono tutte le conferenze dell'E3, c'è l'E3 di Los Angeles, dove sicuramente qualche novità per PES 2017 sarà presentata. Vi ricordiamo pure che sono in arrivo dei nuovi contest. Quest'Italia Top Games sta per collaborare con una importante radio, si chiama Simpli Radio, ha un nuovo programma, si chiama TG Tech e si vincono tantissimi, tantissimi premi interessanti nelle prossime settimane di giugno. Quindi seguite tutte le novità, abbiamo fatto anche un video sul canale YouTube, ci sono delle bellissime cuffie creative da vincere. Andate sulla pagina ufficiale di Creative Italia, troverete un po' tutte le cose da fare, nei prossimi giorni vi aggiorneremo ancora. Grazie come sempre dell'attenzione, ci rivediamo qui con nuovi filmati, nuove novità e tantissime altre cose. Buon campionato a tutti e buon PES a tutti. Ciao! Grazie a tutti!